Da Pisa al Venezia, in mezzo, una sessione di mercato che ha regalato tante novità nella rosa di Alessandro Nesta. Cinque arrivi e sei cessioni. Come cambia il Frosinone che da sabato riprenderà la rincorsa alla zona play-off? Oggi, distante, un solo punto. Pietro Iemmello è il pezzo da 90, l'attaccante con esperienze e capacità realizzative, qualità che forse mancavano nel reparto avanzato del Frosinone. Sulle spalle dell'ex Perugia, 19, i gol segnati lo scorso anno nel campionato di Serie B, poggerà il nuovo attacco giallazzurro, numeri alla mano, il meno prolifico delle prime, 13 in classifica. Dopo i sei mesi in Spagna e la breve parentesi con la maglia della Spalmas, Iemmello potrebbe già fare il suo esordio sabato allo stirpe contro il Venezia, se dal primo minuto o a partita in corso lo deciderà Alessandro Nesta che in questi giorni valuterà la sua condizione fisica. In rampa di lancio c'è anche Luigi Vitale, protagonista lo scorso anno della promozione dello Spezia, ma ai margini nel Verona di Juric. Con la partenza di Beghetto, l'ex Salernitana si giocherà il posto con Zampano, convincente nelle ultime uscite sulla fascia sinistra, e con Delia in campo nei minuti finali a Pisa. Nesta aspetta con ansia anche il vero Vincenzo Millico, l'ex Toro che ha fatto il suo esordio a Vicenza e poi si è fermato per un problema muscolare. A qualità e strappo per essere tra i titolari del nuovo tridente giallazzurro. Discorso simile per Enrico Brignola che in ciociaria dovrà ritrovare l'antico smalto e recuperare il terreno perso nelle ultime stagioni, da Pisa al Venezia, in mezzo il mercato e un frosinone da sabato. Tutto da scoprire.